Nella giornata dedicata ai diritti umani non si può tacere il fatto che non solo in Iran e in altre parti del mondo i diritti umani vengono calpestati, ma che anche in Cina, un paese di oltre un miliardo e mezzo di abitanti, ogni diritto viene negato dalla orrenda dittatura comunista guidata dal dittatore Xi Jinping, al quale troppi stringono la mano, con i quali qualcuno, i grillini con Conte e Di Maio avevano sottoscritto accordi per la via della seta, subordinando l'Italia, svendendo diritti dell'Italia alla dittatura comunista cinese. Questi sono Conte e i grillini, quelli che si sono sdraiati davanti a chi nega ogni diritto al suo popolo. La Cina è il paese che inquina più di tutti nel pianeta, non riconosce ovviamente diritti di opinione, possibilità di votare liberamente, diritti sindacali. Sfrutta il lavoro del prossimo senza nessuna garanzia. Nella giornata dei diritti umani condanniamo la ferocia degli ayatollah iraniani e di tante altre dittature, ma ricordiamoci che la Cina è la peggiore, la più feroce, orrenda dittatura. Xi Jinping è un nemico della libertà, la Cina è una vergogna del pianeta. Diciamolo con chiarezza.